Il Messina quando scende in campo deve onorare la maglia, credo che è un impegno importante, vogliamo passare il turno perché portiamo il Messina in una posizione molto positiva. Gli impegni si devono mantenere, si devono prendere con grande impegno, con grande professionalità, noi abbiamo bisogno di giocare, abbiamo bisogno di dimostrare che siamo in crescita e questo è un impegno che darà la possibilità a chi ha giocato di meno a mettersi in mostra. Noi facciamo la nostra strada, dobbiamo concentrarci su di noi, io ci sono stato, so le problematiche, però le squadre quando scendono in campo tolgono tutti i problemi perché c'è da onorare una maglia e noi siamo coscienti di incontrare una squadra costruita per fare un campionato importante in questa categoria. Noi faremo la nostra parte perché, ho detto ai ragazzi, i ragazzi vogliono passare il turno e faremo di tutto per superare questo ostacolo. Ma sempre una crescita graduale, una crescita costante. Questa partita mi darà risposte sui giocatori che hanno avuto meno minuti sulle gambe per mettere tutti allo stesso piano e per fare le scelte la domenica con più difficoltà.